Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, 6 km di coda e traffico bloccato per un incidente al km 255-800 tra il bico con la variante di valico Baccheraia e Aglio. Sempre verso Bologna per lavori corsie di destra chiuse tra Firenze in Pruneta e Firenze Scandicci. Chiuso lo svincolo di Firenze in Pruneta in uscita provenendo da Roma in entrata verso Bologna e ci sono rallentamenti tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta. Ancora verso Bologna, 1 km di coda per un incidente al km 347-800 tra Arezzo e Valdarno e code tra Firenze Scandicci e il bico con la variante di valico Baccheraia. Infibili per lavori tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna, 3 km di coda verso Firenze e 1 km di coda verso Livorno. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!